Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Un successo straordinario per la prima festa dei fiori degli anni 2000 a Porto Azzurro. Un trionfo di colori, profumi e sapori per un evento che ritorna dopo più di 50 anni ha accolto le tantissime persone che hanno partecipato nelle giornate di sabato e domenica. Commercianti e cittadini hanno collaborato insieme dando libero sfogo alla fantasia per decorare la piazza e le vie del paese con delle vere e proprie opere floreali. Molte le iniziative organizzate dall'Associazione Attività Turistiche in collaborazione con la Proloquo e con il patrocino del comune. Ristoranti, bar e pasticcerie hanno offerto piatti e prodotti sul tema dei fiori. Un calesse trainato da un cavallo ha portato in giro per le vie di Porto Azzurro belle ragazze vestite di fiori. E ancora le mostre fotografiche, la passeggiata naturalistica dalla pianotta a Capobianco. Lo spettacolo delle giovani allieve di ginnastica artistica, la musica nei vari angoli del paese e poi il gran finale in piazza Matteotti con la banda Pietri e la premiazione del concorso per il miglior allestimento floreale. Visto il grande successo della manifestazione, l'amministrazione comunale, le associazioni e tutti i commercianti rinnovano l'invito per il prossimo anno per una festa di fiori ancora più bella e coinvolgente che diventi col tempo un appuntamento fisso nella programmazione dei festeggiamenti all'Isola d'Elba.